Per il liceo Cotugno la provincia assegna 51 aule per il prossimo anno scolastico. Questa mattina infatti si è svolto il consiglio provinciale e a margine dell'assise il presidente Angelo Caruso ha firmato anche il decreto di assegnazione delle aule ai licei annessi al convitto Cotugno dell'Aquila per l'anno scolastico 2018-2019. Le 51 aule degli studenti saranno così dislocate. Nel MUSP di Via del Castelvecchio, l'ex dottrina cristiana per intenderci, andranno 16 aule. Nel MUSP di Via Ficara, l'ex scuola delle Micarelli, 12 aule. Nella sede del Colecchi, 8 aule. Nel MUSP del liceo musicale, 10 aule. E nella scuola Carducci ci saranno 5 aule. Il decreto prevede inoltre che nei MUSP, oltre alle aule studenti, vengano assegnati spazi anche per uffici e segreterie e che vengano messi a disposizione per l'esigenza degli studenti anche l'aula magna e la palestra dell'Istituto d'Aosta, la palestra dell'Istituto Colecchi, oltre alla palestra del MUSP di Via Ficara. La provincia si farà carico del contributo per le corse speciali dei bus che si renderanno necessarie. Ora aspetterà la dirigente scolastica del Cotugno, Serenella Ottaviano, provvedere all'assegnazione delle classi afferenti ai vari corsi nelle aule che sono state indicate dal presidente Caruso.